La provincia di Avelino sarà in grado di gestire la riorganizzazione scolastica post-covid ricorrendo al proprio patrimonio edilizio senza dover far ricorso ad altre strutture. La rassicurazione arriva dal consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica Gironamo Giacquinto che ha incontrato i dirigenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado. Ci aiuterà molto anche la riapertura del Mancini. La provincia è dotata di strutture onestamente paragonate, tutto il relativo poi per l'amor di Dio ma buone, con spazi abbastanza sufficienti perlomeno che ci consentono di fare una valutazione serena. Chiaramente abbiamo dovuto già da adesso cominciare a lavorare però siamo anche ottimisti anche perché non dimentichiamo se abbiamo sopportato la chiusura del Mancini con la riapertura questo automaticamente ci restituisce uno spazio che possiamo rifunzionalizzare eventualmente proprio per consentire una ripresa dell'attività scolastica nel modo più sereno e contento possibile. E il preside dell'Agrario Pietro Caterini annuncia la disponibilità del suo istituto, se necessario, di ricorrere anche a spazi all'esterno per le elezioni. Ne abbiamo tanti di spazi all'esterno perché avendo l'azienda agraria con vari ettari di terreno potremmo farlo quindi volendo realizzare delle tendo strutture all'esterno noi lo possiamo anche fare. Questo chiaramente fermo restando le condizioni meteorologiche.